Gioca bene ma sbaglia davvero troppo e contro la nuova capolista nocerina, Onniagore Costacaro. Il Gravina perde 2-1 in campagna non demeritando, va sotto 2-0 in 10 uomini, la riapre con Santoro, sfiorando un clamoroso pari nel finale. Nel suo 4-2-3-1, Luca Tiozzo deve rinunciare agli strappi di Banser. Gioca Alexis Gonzalez accanto a Cavaliere Keita, in mediana il duo Cabella-Piers. Collaudata la nocerina di Novelli, nel 4-3-3 D'Agostino e Fagliello abbinano qualità e corsa al servizio della punta Marquez. A centrocampo da monitorare le incursioni di Gerbaudo, non trema al cospetto del sempre caldo impianto campano il Gravina. Pierce note il movimento uscire di Santoro, l'attaccante rientra masticando troppo il destro. Cattive notizie per Tiozzo, si fa male Chiaradia. Al suo posto il francese ex-general Ghesh, pretende troppo in uscita il Gravina. Fagliello calce di prima intenzione, Zanin reattivo nell'andare giù, propositivo Gonzalez, galoppa a destra, palla perfetta. Santoro entra in porta ma senza il pallone, un dettaglio non banale. Dall'altro lato con D'Agostino in campo succede sempre qualcosa. Sventagliata per Fagliello, al Ghesh li concede il destro. A centro aria, Marquez svetta più in alto di tutti, 1-0 Nocerina. L'occasione per il pari, il Gravina la trova già nel primo tempo. Schema su punizione, Pierce Murato, la palla carambola su Napolano, incapace di trovare la giusta coordinazione. L'inizio di ripresa è da dimenticare per il Gravina. Al Ghesh sbaglia lo stop e travolge Fagliello. Sacrosanto, secondo giallo, è gara finita per il laterale Burgiano. Chiozzo inserisce Albe e Turchè, ma i pasticci non sono terminati. Quest'ultimo, in aria, non vede arrivare Ferrari alle sue spalle. Contatto e calcio di rigore Nocerina. Dal dischetto, D'Agostino una sentenza. Zanin spiazzato e 2-0 in favore di Molossi. Quando c'è da attaccare è tutt'altro Gravina. Chacon, altro subentrato, slalomeggia trovando l'incrocio falloso con Padalino. La palla per riaprire la sfida c'è la Santoro. L'attaccante non sbaglia e rimette tutto in discussione. I rossoneri vogliono mettere il lucchetto. D'Agostino, palla c'è, palla non c'è. Ferrari diceve da posizione impossibile, non trova la porta. Pazzesca, palla gol, Gravina l'ottantatresimo. Chacon si avventa sulla palla vagante, ritrovandosi davanti a Wojcicki. Calciaforte trovando la sagoma del portiere polacco. Occasione sciupata e gara che finisce qui. Il Gravina resta a quota 10, ma non ha tempo per imuginare. Mercoledì, turno infrasettimanale in casa contro Langri. Per la Nocerina, ora al comando. Derby Campano, in casa dell'Ischia.